Suona l'inno di Mameli, quasi a suggellare il fatto che la Coppa Cers di Occhie su pista parla italiano. Uno splendido, superbe, a tratti stradipante Alimac Forte de Marmi, batte infatti in modo netto 14 a trail Turkel, con pagine portoghese calata in Versilia, con la speranza, Havana, di poter difendere il 5 a 3 con cui si era imposta nel match di andata. Ma per i lusitani è stata subito notte fonda in tutti i sensi. Cansella, Orlandi e sempre più convincente Verona hanno spazzato via il Turkel già nel primo tempo, chiuso sul 9 a 0. La ripresa è stata pura accademia, col pubblico del Palaforte a spellarsi le mani sulle giocate di una squadra che ha cominciato a pensare anche all'imminente Final 8 di Coppa Italia, da giovedì a giovinazzo. Ora, nella Final Four di Coppa Cers, che si giocherà il primo weekend di aprile, candidate la spagnola Igualada e lo stesso Forte de Marmi, il rosso-blu di Coach Crudeli se la vedranno in semifinale contro la vincente di Bassano Noia, giocata solo la gara di andata. Nell'altra semifinale saranno di fronte Breganze e appunto l'Igualada, formazione spagnola. Annotazione finale sull'Eurolega e sul Cigici Viareggio, che ha battuto 7 a 5 i tedeschi dell'Erningen. Una vittoria di Pirro, poiché le Zebre e Viareggini avevano già salutato la manifestazione.